Valorizzare il recupero della memoria e il recupero del percorso della Romea Strata, in particolar modo dell'accoglienza povera. E' lo scopolo dell'Ordine dei Cavalieri del Tau, la storica compagnia che ha la propria sede centrale a San Miniato e che ha tenuto presso la chiesa intitolata ai Santi Maurizio e Cirillo, pian degli ontanni di Cutigliano, il proprio tradizionale momento d'accoglienza di nuovi confratelli e consorelle della montagna pistoiese. Sulle loro spalle è stata così posta la tradizionale veste bianca e rossa dell'Ordine. Stamani nominiamo come nuovo custode della Magione, della montagna pistoiese, il confratello Sandro Danesi, il quale insieme ad un direttivo della Magione avrà il compito di svolgere l'attività di impegno su questo territorio e diciamo su questa montagna pistoiese. Un momento che è stata anche occasione per ricordare Carluccio Cercarelli che ha guidato la Magione della montagna dei Cavalieri dal 2015 sino alla prematura scomparsa. Carluccio è stato incomiabile nel voler fondare la Magione di Cutigliano, nel promuovere tante iniziative dal 2015 fino a questo anno. Il suo obiettivo, come certamente l'obiettivo della storica compagnia dei Cavalieri del Tao, è promuovere le vie di pellegrinaggio, l'importanza delle vie di pellegrinaggio per la cultura, per il turismo religioso e quindi in particolare per quanto riguarda la montagna pistoiese il percorso della via Romea. La via Romea che attraversa tutta la montagna arriva a Pistoia e poi si va a collegare alla via francigena proprio a Fucecchio.